Ciao! Ah sì, ecco sì, ciao! Come stai? Bene, bene. Come va? Eh, bene, dai. Io sono fortunata in questo, senza voler romantizzare la quarantena. Per me sono fortunata perché vivo vicino alla mia famiglia, quindi posso aiutarla. Ho una casa dove stare, quindi sono molto fortunata. Ma adesso dove sei? Adesso sono in casa mia, che è il mio salotto. A Milano? Sì. Perché l'ultima volta che ci eravamo sentiti eri andata in Trentino. Come è successa questa vicenda di partenza per il Trentino e poi ritorno? Beh, perché dopo il primo decreto dello spettacolo che era uscito il giovedì, appunto, io ero rimasta senza lavoro e quindi ho pensato di andare con tutta la mia famiglia. Si iniziava a sentire un clima pesante, siccome io non lavoravo, abbiamo pensato di andare in montagna tutti insieme anche per stare insieme e per stare in un clima anche con rapporto con la natura. Quindi siamo partiti e poi il sabato, quando già eravamo via, è uscito il nuovo decreto, invece quello della zona rossa della Lombardia, che sarebbe stato attivo il lunedì. Inizialmente pensavamo, visto che eravamo su, di stare su. Poi, siccome abbiamo un caro amico che lavora all'ospedale di Bergamo, lui ci ha consigliato, siccome, vabbè, io non sono più giovanissima e quindi neanche i miei, di conseguenza, mi hanno consigliato di metterli in totale isolamento e quindi poi di portargli io la spesa, quindi loro sono a casa, chiusi in casa e poi io li porto. Ma tu li senti? Sì, sì, li sento tutti i giorni, più volte al giorno. Infatti loro sono molto contenti e poi appunto mi occupo di, mi porto la spesa, gli porto giù la spazzatura così che loro possano essere protetti, ecco, in questo momento. Ma tu, oltre a parlare con i tuoi genitori, cosa fai in casa? Beh, io in questo momento sto studiando tantissimo e quindi, vabbè, sto continuando a studiare tedesco, che avevo già iniziato. Ti prego, dimmi qualcosa in tedesco. Sfortunatamente, sfortunatamente lo studio su un'app, quindi lo scrivo molto bene, lo ascolto molto bene, ma non parlo. Peccato. Mi vergogno molto ancora. E poi niente, sto trovando tante piattaforme online per approfondire cose appunto che già studiavo prima e adesso la differenza è che invece che studiarle con persone reali, confrontarmi, le sto studiando attraverso dei corsi online. Ma vuoi raccontarci qualcosa che hai imparato? Beh, è molto bello, ho fatto un corso di tecniche narrative per l'infanzia di una editrice argentina e lei è stata molto affascinante perché, per esempio, una cosa che è molto semplice, a cui si può giocare, partendo dalla divisione delle storie aristoteliche in tre atti, lei fa costruire dei dadi con i personaggi, i luoghi, le situazioni, i conflitti e tirando questi dadi inventi un po' delle storie, poi le va nello specifico poi di come scrivere le storie, di come dagli, però può essere, per esempio, questo un gioco divertente da fare in famiglia. Che carino. Poi sto studiando un po' di, diciamo, composizione con questo artista e grafico spagnolo che si chiama Pepe Jimeno e sto studiando le leggi della composizione visiva e quindi il peso, l'unità, i concetti semplici che però non avevo mai approfondito mi sta aiutando parecchio, no? Perché poi nel mio lavoro devo costruire, devo avere un'attenzione visiva molto particolare dallo sviluppo delle presentazioni a poi la messa in scena, quindi è molto interessante poi affrontarlo con un artista astratto perché appunto parla un po' della sensazione di quello che vede l'occhio e quindi, insomma, sto studiando delle cose che mi insegnano a guardare, a raffinare il mio sguardo in questo momento in cui siamo, almeno io mi sento un po' persa e sento di avere questo bisogno di reimparare a guardare quello che guardavo, quello che mi circonda. quindi sto cercando di trovare dei maestri per capire quello che ci sta circondando Molto, molto interessante, molto bello Visto che sei a casa, tu adesso sei nel tuo salotto, hai detto ma è la tua parte preferita della casa? Cioè c'è qualche punto della casa che ti fa sentire bene nonostante questo periodo? Per esempio il mio posto preferito assolutamente è il balcone oppure la nicchietta che mi sono creata vicino al calorifero dove vado a nascondermi e a leggere Tu hai un posto così? Beh, io sono molto fortunata perché la mia casetta l'ho potuta sistemare e viviamo insieme io il mio compagno e devo dire che è piena di angoli così quindi sì, questo è il tavolo dove mangiamo cioè la nostra casa è piccola ma è piena di piccoli spazi e c'è dietro questa libreria che io amo tantissimo che è la nostra libreria e non so se vedi, dietro si intravede c'è una porta murata E dove conduce? E questa porta conduce dove l'immaginario di ognuno vuole e mi piaceva l'idea di avere una porta che conduce dove ognuno vuole non si può quasi aprire se non attraverso i libri Certo E come sta andando la convivenza con il tuo compagno? Devo dire appunto io sono veramente fortunata perché sta andando molto bene e per noi è un'occasione per andare più a fondo nel rapporto per conoscerci meglio anche per confrontarci in questo momento su quali sono le nostre visioni, i nostri desideri su chi siamo Lui è una persona estremamente intelligente, profonda e quindi è un bellissimo stimo sono molto fortunata perché è un compagno prezioso davvero a fianco Ok Sono molto contenta per te E' molto contenta che questa quarantena e questo periodo non sia carico di troppe paure Ti faccio l'ultima domanda Se ti avessero detto a gennaio guarda che a breve ti chiuderemo in casa per mesi e non saprai esattamente quando finirà Qual è? Che cosa avresti fatto? Cioè io sicuramente sarei andata a comprarmi un botto di roba al supermercato in precedenza sarei andata a trovare mia madre che non vedo da una vita Tu che cosa avresti fatto? Non saprei Credo che Non saprei proprio Non ci ho mai pensato e per fortuna non saprei cosa avrei fatto È quasi più difficile rispondere a questo che al dopo che è un altro grande mistero E allora per il dopo che cosa ti immagini? Purtroppo ancora sto sto appunto sto cercando dei maestri che mi possano aiutare a immaginare perché appunto come la risposta precedente non è qualcosa di così forte e complesso quello che sta succedendo che non ho ancora degli strumenti per immaginare quindi è come se non sapessi appunto come quali che strumenti usare per capire per prepararmi a un dopo quindi per adesso appunto cerco di di restare in questo momento raffinando appunto cercando di raffinare quelli che sono i miei strumenti ma senza poi sapere come poi potranno essermi utili Grazie 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 Grazie.